Ciao ragazzi, oggi andiamo a fare l'unboxing del supporto per il manubrio che io ho acquistato su Amazon a 29,90, mi è arrivato stamani, un supporto da attaccare alla bicicletta per attaccare per installarci sopra la GoPro e avere la possibilità di ruotarlo fino a 360 gradi per inquadrare il davanti e il dietro. Andiamo a fare l'unboxing, un veloce unboxing, prendiamo lo scotch e via la busta, questa è la scatola così come si presenta davanti e dietro, questo è il nuovo in base, sono i nuovi imbatti della GoPro che hanno deciso di cambiare il sistema di imballaggio. Per agevolarmi ho già tagliato qua l'adesivo e una cosa che vi consiglio, che ho già visto anche negli unboxing americani, che gli accessori ne vengono messi all'incontrario, quindi queste davanti della scatola, quindi non viene di metterli sotto e sfilare. Sfilando, troviamo davanti a noi questi oggetti qua, dove troviamo? Il supporto, che è veramente fatto bene, solido, questo è il supporto. Faccio vedere come scorso già la vite, arrivato in fondo, quando arriva in fondo si blocca e quindi non c'è modo per perdere la vite di bloccaggio. Si sfila e troviamo già inserito uno spessore in gomma con questa incalanatura per bloccarlo all'interno, dove ci dà la possibilità di installarlo su tre misure diverse, cioè nel senso tre spessori diversi. Il massimo spessore senza gommini, che è già gommato all'interno, non so se si vede ma è già gommato all'interno, lo spessore, il primo spessore, diciamo, e lo spessore più piccolo che troviamo qua come accessorio nella scatolina. In più, nella scatola che cosa troviamo? Una vite di bloccaggio e una slitta, quella con l'aggancio più basso, per far rimanere di poter installare la fotocamera in tutte le posizioni possibili. Ma andiamo a vedere la rotazione a 360 gradi come funziona. Qua c'è una leva che dovrà essere premuta e si può orientare la fotocamera in qualsiasi posizione. A rilascio della leva, la fotocamera non si muove più, è veramente stabile, non fa giochi, non fa scricchioli, è semplicemente perfetta. Ecco, ed è spettacolare. Questa è di chiudere, cioè questo sistema qua. Arrivate in fondo, si può stringere. Io consiglio sempre i prodotti originali, perché sono di qualità migliore, sono studiati, sono pensati, sono progettati per l'Eiko Pro e sono di una qualità estrema, sono in meglio. Grazie a tutti voi per aver seguito questo unboxing, al prossimo video. Ciao!